Ciao a tutti ragazzi, secondo giorno qui in Nuova Zelanda e sono già alla prima tappa del mio tour e siamo a Dobbyton. Purtroppo però il tempo non è molto clemente, oggi piove al momento, speriamo che migliori un pochino anche se ecco adesso sta uscendo forse un po' di sole tra le nuvole, speriamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.